Il riformista, voi volete sapere cos'è il riformista? Ma guardate, è una cosa molto semplice, è l'unico giornale garantista, ma veramente garantista, che c'è in Italia, non ho trovato un altro. Ed è, io mi permetto di dire, anche l'unico giornale libero. Noi siamo liberi, possiamo scrivere quello che vogliamo, non prendiamo ordini da nessuno. Stiamo crescendo, stiamo diventando un giornale importante, e vogliamo andare oltre. E allora, siccome vogliamo andare oltre, faremo una TV web. E chi viene a fare la TV web? Paolo Liguori. E io, volentieri partecipo a questa iniziativa, ci saranno rubriche, ci sarà una rassegna stampa, ci saranno i notiziari, ci saranno altri amici che commentano con noi le notizie, ma io vengo, e loro pure, perché questa è un'impresa intelligente, utilissima, in questo momento indispensabile. E' divertente, divertente perché ci divertiamo ad essere liberi in un paese sempre più soffocato. Partecipo con grande entusiasmo, perché questo è un posto di uomini liberi. Sanzonetti è un uomo libero, che naturalmente raduna gli amici e dice, moltiplichiamo questa nostra piccola e precaria libertà per quello che sta succedendo in Italia con la giustizia, e cerchiamo di estenderla anche ad altri fuori da noi. Attenzione, perché noi siamo gente non violenta, però tireremo sassate. Tireremo sassate per scassare il sistema dell'informazione. Vogliamo cambiare molto lì. Naturalmente sassate virtuali, mica come il Balilla, fischia il sasso, un nome squilla, perché quelli erano sassi veri. Noi, le nostre, sono sassate virtuali con i colleghi che scrivono già sul Riformista. E insomma, ormai ci siamo. Molti ci hanno chiesto, ma dove vi troviamo? E' facile, riformista.tv, sul web. Ma insomma, sigla.